Nel video si vede lui che entra in un ufficio della ditta di ferramenta per cui lavora, lui che controlla che non arrivi nessuno, lui che ruba i soldi degli incassi del suo datore di lavoro. Immagini inequivocabili che sono costate ad un 66enne dell'Aquila la denuncia per furto aggravato da parte della squadra mobile. Ad incastrarlo, proprio il video acquisito agli atti delle indagini della questura aquilana. Il titolare della ditta di ferramenta, allertato da altri impiegati, aveva deciso di installare una telecamera e ha consegnato così alla polizia il filmato. Una volta acquisito l'indizio, gli agenti hanno fotocopiato i soldi presenti nella cassa e hanno incastrato il dipendente. A mettere in guardia il proprietario della ferramenta, erano stati altri impiegati che avevano visto il collega vendere due confezioni di impregnante e un filo per decespugliatore ed intascarsi i soldi del cliente anziché metterli in cassa. Dopo la denuncia formale presentata nei giorni scorsi dal titolare dell'azienda, sono scattate le indagini della squadra mobile. Gli agenti, lunedì, hanno fotocopiato in accordo con il titolare 100 euro in banconote da 20 e le hanno depositate nella cassa dell'esercizio commerciale. Verso le 14, dopo essersi posizionati nello stabile di fronte alla finestra del negozio, in modo da poter osservare l'ufficio in cui si trovava la cassa, gli agenti della squadra mobile hanno visto l'impiegato che prelevava i soldi e lo hanno così bloccato. I 70 euro che gli hanno trovato in tasca sono i risultati dalla verifica dei numeri di serie precedentemente fotocopiati, denaro di proprietà della società. Il dipendente ha confessato poi di essersi portato a casa anche un compressore e due abitatori presi nella ditta. Inevitabile per lui la denuncia e forse è in arrivo anche il licenziamento.